C'è ancora tanta apprezzione e nello stesso tempo speranza per il destino di Anna annunziata a Greta, Morena, Suami e ancora di più di Mia e Patrizia, ricoverate in rianimazione in gravi condizioni all'ospedale Santo Buono di Napoli. L'incubo piombato sulla vela celeste è costato la vita alla nonna di quattro delle bimbe ricoverate, la 53enne Patrizia Della Ragione, a suo figlio Roberto Abruzzo di 29 anni e sua nipote Margherita Della Ragione, stroncata a 35 anni. Due tra le più piccole delle bambine ferite lottano tra la vita e la morte. Mia e Patrizia rimangono in gravi condizioni seppure stabili, ricoverate in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Le bimbe di 4 e 7 anni hanno subito entrambe un intervento salvavita per arginare i danni dei gravi traumi cranici riportati nel crollo. Ma nonostante l'eccellente lavoro dell'equip medica e dell'ospedale, le loro condizioni sono critiche. Le altre giovanissime ricoverate, tra loro la più grande a 10 anni, si trovano tra il reparto di ortopedie e chirurgia d'urgenza, ma fortunatamente per nessuna c'è il rischio di serie compromissioni dei parametri clinici.